Ciao a tutti. Cari spettatori. Siamo qui oggi con notizie davvero speciali. Parleremo di Manila Nazaro e Stefano Radei. Una coppia che continua a far parlare di sé. Hanno festeggiato i loro compleanni in modo speciale e noi abbiamo tutti i dettagli. Ma prima di svelare i festeggiamenti, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del mondo dello spettacolo. Manila Nazaro e Stefano Radei, sempre più innamorati, hanno festeggiato i rispettivi compleanni in modo spettacolare. I loro compleanni, avvenuti il 10 e l'11 ottobre, sono diventati un'occasione speciale per unirsi in una festa doppia che ha attirato l'attenzione di tutti. Stefano Radei ha condiviso una serie di foto su Instagram, mostrando come lui e la sua dolce metà, Manila Nazaro, abbiano celebrato i loro compleanni. La coppia ha scelto di fare le cose in grande e ha organizzato un party eccezionale con la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo e persino i figli dell'ex Miss. Le foto pubblicate rivelano che la festa si è svolta su una splendida terrazza con vista a Roma, nel quartiere San Giovanni. Oltre ai figli della coppia, c'erano anche amici VIP presenti per festeggiare con loro. Tra gli ospiti ci sono state Angela Melillo, Matilde Brandi, Milena Miconi e Manuela Guastalli, amiche di Manila. Per Stefano Radei, erano presenti Francesca Tocca e Raimondo Todaro, entrambi professionisti della danza e noti per il loro impegno ad «amici». Nel suo post su Instagram, Stefano Radei ha condiviso il suo entusiasmo e ha descritto il compleanno come «il più bello della sua vita». Ha espresso gratitudine per l'amore e il supporto ricevuti da amici e familiari. E qui concludiamo questa emozionante storia di compleanno di Manila Nazaro e Stefano Radei.